Mentre sul futuro dell'ex ospedale Sant'Anna di Como restano più dubbi che certezze, l'area di Via Napoleona si arricchisce di un nuovo servizio. Come annunciato nei giorni scorsi, il centro di medicina toracica è stato trasferito oggi al settimo piano del monoblocco nel poliambulatorio di Camerlata. L'attività sarà a pieno regime a partire da giovedì 27 novembre. Da oggi fino a mercoledì verranno collaudate le apparecchiature in dotazione al centro e verranno visitati i pazienti già prenotati circa una decina al giorno. La medicina toracica fa parte dell'unità operativa a riabilitazione specialistica a riabilitazione cardiorespiratoria Paola Giancola del presidio Felice Villa di Mariano Comense. Il Sant'Anna quindi aggiunge un tassello al progetto della cittadella sanitaria in Via Napoleona, progetto che tuttavia resta incompleto. Manca ancora infatti l'ASL di Como, che in teoria dovrebbe portare uffici e servizi a Camerlata. In pratica però il trasferimento non è ancora iniziato e i 40 milioni di euro necessari per realizzarlo pare siano difficili, se non impossibili, da trovare. L'assessore alla sanità Mario Mantovani era stato molto chiaro nei giorni scorsi. Se sul Pirellone si abbatteranno i tagli previsti, gli investimenti per completare il progetto di Via Napoleona saranno a rischio. Resta poi l'incognita dell'area dell'ex Sant'Anna, il 60%, destinata alla vendita ai privati per la realizzazione di investimenti commerciali, residenziali e turistici. Al di là delle perizie, che dal 2003 ad oggi hanno visto il valore passare da 69 a meno di 20 milioni di euro, il complesso non è stato ancora messo in vendita.